La vittoria a Casalinga e sale al secondo posto in classifica dietro a Lavellino, per giunta mantiene l'imbattibilità liquidando il Cosenza per 2 a 1, nonostante i 5 minuti finali nei quali si è temuto il peggio grazie ad un calcio di rigore molto dubbio decretato dall'arbitro Bazzoli. E' proprio quell'episodio che ha letteralmente messo in crisi gli uomini di Nicoletti. Bazzoli, che al settimo minuto non aveva fischiato un evidente fallo da rigore su Agostini, ha pensato bene invece di punire un presunto fallo di Zaffaroni su Catena, con Marulla in fuorigioco, e riaprire così la partita ad un Cosenza per niente meritevole di uscire imbattuto da Loiacobone. Al di là di questi episodi che pesano moltissimo sulla direzione arbitrale, è opportuno dire che il Taranto ha meritato ampiamente la vittoria per tutto ciò che ha fatto nell'arco degli interi 90 minuti. Il Rosso-Blu, oltre ad avere sconfitto la squadra di Gianni Di Marzio, hanno scacciato anche tutte le avversità nate in settimana per via di numerosi infortuni e della squalifica combinata a Mazzaferro. Per Nicoletti insomma mille difficoltà per allestire la formazione da mandare in campo contro il temibile Arcigno Cosenza, e a questo punto la vittoria acquista maggior valore e fa sorridere Nicoletti. Direi che va un grosso merito a tutti i ragazzi che hanno dato vita ad una partita sicuramente entusiasmante, proprio anche fino alla fine, però direi interpretata molto bene, preparata adeguatamente durante la settimana e puntualmente poi messa in pratica in questa gara. Direi che la squadra ha espresso un buon gioco, ha avuto diverse possibilità, ha fatto due gol e forse non dovevamo subire quell'ultimo ritorno del Cosenza negli ultimi sei minuti, ma purtroppo le situazioni di contingenza e anche di sostituzioni forzate che ho dovuto fare aveva un pochettino compromesso questa parte finale. Tuttavia non va sottaciuto il grande contributo dato dal pubblico per l'intero secondo tempo, che ha letteralmente annientato gli ospiti e sospinto i rosso-bru locali per il raggiungimento del raddoppio. Fondamentale quindi l'apporto del pubblico, come mai si era registrato in precedenza. Oggi c'è da dire che il pubblico è stato grandioso? Ma credo di sì perché c'è stato un momento che eravamo veramente diciamo un po' rilassati, il pubblico l'ha caricata, tanto è vero che è venuto il secondo gol con una splendida azione di Clemente. Credo che io ho sempre sostenuto che il pubblico è il tredicesimo giocatore in campo per la squadra. Chi è il dodicesimo? Il dodicesimo è l'allenatore che dà dalle sue disposizioni. Credo che il tredicesimo è quello che carica veramente il gioco dei ragazzi, perché sono ragazzi che vogliono avere la considerazione di chi praticamente soffre, paga e vuole lo spettacolo. Loro aspettano questo tipo, oggi l'hanno fatto e credo che è stato ripagato con una vittoria. Credo che questa vittoria deve farci stare più tranquilli con queste due trasferte che andremo a fare fuori. Effettivamente ci ha trascinato all'inizio del secondo tempo con un boato assordante dall'inizio alla fine e questo devo dire grazie al pubblico che è stato meraviglioso. Noi come ti ripeto la nostra salvezza è ancora lontana ma piano piano ce la raggiungeremo. E' il pubblico che vorremmo sempre vedere e soprattutto sentire. Complimenti. Torniamo alla partita che ha visto Spagnulo ricevere una medaglia d'oro dal presidente Carelli per la sua centesima gara in maglia rosso-blu. Cento partite in Serie B premiato con una medaglia d'oro dal presidente Carelli pesa no? No, pesano assolutamente, anzi forse ringioveniscono perché stare in una città come Taranto a giocare sempre a questi livelli non fa altro che far bene. Io sono contento di aver giocato queste cento partite nella mia città, di avere al seguito questi tifosi che sono stati commoventi. Quindi ringrazio loro anche per il flascio di fiori che mi hanno regalato e insomma ringrazio anche la società che ancora sta venendo fiducia a me. Minuti iniziali col Taranto all'attacco e Cosenza rigido nelle marcature e pronto a colpire in contropiede. Nicoletti fa esordire Bella Spica per non rischiare Cossaro e si rivede Agostini vice Zannoni. Conferma Giacchetta e ripropone D'Ignazio sull'auto sinistro in assenza di filato. La gara non procura grosse emozioni anche se l'iniziativa è quasi sempre dei padroni di casa. Al settimo l'arbitro dice no a un fallo in area avversaria su Agostini mentre al quindicesimo Spagnuolo è impegnato da Militi dalla lunga distanza. I minuti scorrono veloci con la voglia matta del Taranto di sfruttare qualche buona occasione. E lo fa al trentaduesimo con il terzino D'Ignazio che sfrutta alla perfezione un perfetto assist di Agostini. Sì ho visto Agostini che crossava, mi faccio trovare sempre in quei posti, ho calciato molto bene di sinistro, di collo pieno e l'ho messo all'angolo alla sinistra del portiere. Nei primi 20 minuti della ripresa registriamo lo show del pubblico e i pochi interventi dei portieri. Il Taranto controlla un Cosenzas con molti limiti e spesso affonda le sue lame nell'ermetica difesa avversaria cercando di sfruttare anche i favori di Eolo. La difesa ionica non lascia spazio ai volenterosi avversari e così proprio da una veloce azione di contropiede nasce il secondo gol. Protagonista ai finali Giacchetta e Clementi che supera anche Vettore e realizza il primo gol della stagione. Partita chiusa? Sembra proprio di sì, a nove minuti dal termine. Poi accade quel che non t'aspetti a cinque minuti dalla conclusione. L'arbitro concede il rigore che Marulla trasforma e poi allo scadere Spagnulo salva il risultato sul gran tiro di Vivarini e la difesa Tarantina in panna. Sarebbe stata una vera beffa per la squadra del presidente Carelli che si coccola i suoi pupilli dall'alto di una classifica prestigiosa e gratificante in attesa di un doppio turno in trasferta. Insomma, sette punti in cinque partite è certamente un bottino di primo piano. E il bello deve ancora venire.